Musica Potrebbe essere con la madre la bambina di 8 anni di San Giovanni Teatino, della quale domenica scorsa era stata denunciata la scomparsa alla questura di Chieti. Le ricerche, condotte dalla squadra mobile, portano in Germania, dove mamma e figlia potrebbero essere arrivate in autobus. La procura della Repubblica di Chieti indaga per sottrazione di minore. La bambina era infatti affidata in parte ai servizi sociali del comune e in parte alla nonna materna e alle zie. Dopo che entrambi i genitori e un fratello erano stati arrestati lo scorso 19 aprile per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La notizia aveva fatto scalpore anche perché i genitori facevano dormire la piccola nella stessa stanza da letto in cui erano stati trovati panetti di hashish, una pistola a tamburo calibro 22 carica e un'altra pistola a forma di penna. In seguito all'operazione antidroga, la madre era sottoposta all'obbligo di dimora, mentre il marito era stato posto agli arresti domiciliari. La donna avrebbe dunque pianificato la fuga con la figlia, ma gli inquirenti sono ancora alla ricerca di riscontri. Di certo non si trova in casa e non ha portato con sé il telefono nell'auto. Nei confronti della madre è stato avviato un procedimento finalizzato alla revoca o sospensione della potestà genitoriale. Sono dunque ore di profonda preoccupazione per la piccola, del cui caso si è interessata anche la trasmissione Chi l'ha visto, mentre l'associazione Penelope il 25 maggio scorso per la giornata dei bambini scomparsi aveva diffuso dei dati nazionali piuttosto allarmanti, quasi 22.000 denunce, di cui 4.416 italiani nello scorso anno. In Abruzzo sono invece 1.111 le persone scomparse e mai ritrovate.